Se Air France deciderà di non sottoscrivere l'aumento di capitale vuol dire che si diluirà e quindi darà la possibilità ad Alitalia e anche con il supporto del governo italiano perché ovviamente questo rientra in uno dei compiti del governo italiano, le alleanze internazionali, strategiche sul trasporto nazionale e internazionale, di individuare altri partner. Io mi auguro fino alla fine che Air France, che è stato partner industriale in questi cinque anni, continui a credere ovviamente in Alitalia, altrimenti il mercato è molto aperto.